Salve a tutti, noi siamo qui Midnight Shiver, band di nuova formazione, che purtroppo in questa sua prima serata non vedrà il suo primo chitarrista, che purtroppo ha autorevole di salute. Al suo posto però ci sarà un nostro amico, che ringraziamo già in anticipo. Il primo pezzo è molto conosciuto, molti gruppi l'hanno rifatto, noi l'abbiamo fatto così. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.